Eccoci, benvenuti. Invece Luca Mercalli ha deciso di non aspettare il futuro e se l'è costruito a casa sua. Del resto ha appena scritto un bellissimo libro dal titolo Prepariamoci. Luca Mercalli si sta preparando così. Questa è una parte dell'orto e certo adesso ci abbiamo verso l'inverno, però abbiamo per esempio degli ottimi broccoli che si possono raccogliere in questo periodo, i cavoli, qualche finocchio. E lì abbiamo anche un paio, tre galline che danno il loro contributo da un lato mangiandosi gli scarti della cucina e li trasformano in ottime uova. Senta, le costa molto quest'orto? Non solo non mi costa, mi rende, perché gestire oggi un buon orto ha un costo irrisorio rispetto sia al fatto che si fanno anche meno viaggi per acquistare cibo, perché se non si ha l'orto si è costretti ad andare quasi tutti i giorni al mercato, invece in questo modo ci sono intere giornate in cui si può stare a casa senza nemmeno dover prendere l'auto. Si fanno meno rifiuti, meno imballaggi e sicuramente poi c'è la qualità. Qui l'impianto di irrigazione è con il normale annaffiatorio oppure con il tubo di gomma, ma la cosa importante è che non usiamo l'acqua della rete, l'acqua potabile che è costosa e sarebbe assurdo sprecarla per l'orto e abbiamo la cisterna dell'acqua piovana e quindi con un sistema... Questa è la sua casa quando piove lì? Quando piove l'acqua va in una cisterna, questa cisterna contiene 18 metri cubi di acqua, cioè 18 mila litri, che arrivano tutti dalla raccolta dell'acqua di pioggia del tetto. Tutto questo alimentato elettricamente? Tutto questo alimentato elettricamente eppure dal sole, perché l'elettricità in tutte le giornate di sole e nelle ore di luce viene prodotta qua da un impianto fotovoltaico, un normale piccolo impianto su un tetto di modeste dimensioni, stiamo parlando di una trentina di metri quadrati. Ed ecco la centrale elettrica di casa Mercalli. Questa è per l'acqua? I pannelli più scuri, quelli lì in fondo, sono termici, servono cioè a fare acqua calda. Questi invece sono i pannelli che producono elettricità. Questo invece è il grande miracolo tecnologico. Perché è un miracolo? È un miracolo perché pensare che del silicio, che è il materiale più diffuso sulla faccia della terra, è sabbia, è quella con la quale facciamo il vetro. Pensare che il silicio, lavorato opportunamente, purificato, possa trasformare la luce solare nella forma più pregiata di energia che abbiamo, che è l'elettricità, è veramente il grande miracolo. Oggi questi pannelli hanno un rendimento attorno al 14%. Ci sono già pannelli commerciali al 18% e si sa che si può arrivare tranquillamente al 40%, al 50%. Ci sono già. Ma il cuore energetico di tutta la casa è il locale caldaia. Questo non è altro che un serbatoio, molto ben isolato. Ci sono una decina di centimetri di isolamento termico per cui l'acqua calda può essere mantenuta tale anche per tre giorni. Qui vengono stoccati 500 litri di acqua che servono sia per tutto l'utilizzo domestico, per farsi la doccia, per lavare i piatti, per quello che è l'utilizzo dell'acqua calda in una casa, ma c'è anche il riscaldamento. Funziona così. Fino a quando c'è il sole l'acqua viene riscaldata dai pannelli termici. Quando il sole non c'è interviene una pompa di calore che va per una parte ad elettricità, quella prodotta dai pannelli solari, e per un'altra prende il caldo dall'aria. Io metto dentro un kilowattora di energia elettrica e dall'aria ne prelevo due. Il totale fa tre. Quindi metto uno e ottengo tre. Attinge il calore dall'aria, fa acqua a 32 gradi e me la mette sotto il pavimento. E la casa è tranquillamente calda. Prima che esistesse questa pompa di calore c'era un bruciatore. C'era un classico caldaglietto a gas. E quella sostituisce la caldaglietto a gas, per farci capire bene. Nei paesi nordalpini, in Svizzera, in Scandinavia, in Canada, è usata ormai da 30 anni. E in Italia arriva con grande difficoltà e lentezza solo adesso. Costosa? Un impianto come questo, diciamo quello che vediamo qui, più i tre pannelli termici per l'acqua calda, diciamo che siamo attorno ai 15 mila euro. 15 mila euro che ha tirato fuori lei. Sì. Se uno non ha la liquidità per fare l'acquisto iniziale, può trovare dei prestiti agevolati che tengono conto del fatto che la banca è cautelata da un ritorno sicuro. Perché? Perché io risparmio su tutta la bolletta del riscaldamento futuro. Quindi la banca sa che io comunque non spenderò più i 1500 euro di gas che spendevo prima. All'anno? All'anno. Quindi si fa un piano di ammortamento, si vede che in 5, in 10 anni uno si è pagato l'impianto e quindi la banca può anche dare i soldi a tasso zero. E poi in ogni caso nel giro di 6 o 7 anni risparmiando circa 1000 euro all'anno di gas vedo che il 55% l'ho tolto come sgravo fiscale, 7000 li tolgo diciamo in 7 anni, perfetto. Io dall'ottavo anno guadagno 1000 euro, cioè il 1000 euro che non spendo più. Ed ecco come funziona l'impianto energetico dentro casa Mercalli. Intanto non ci sono termosifoni perché la casa viene riscaldata dall'acqua calda che scorre nelle serpentine sotto i pavimenti. E queste sono le valvoline che si aprono e si chiudono a seconda delle diverse stanze. Poi Mercalli ha montato infissi e vetri di ultimissima generazione. Questi sono anche i cosiddetti vetri basso emissivi. L'occhio non vede ma in realtà c'è uno strato di sottili ossidi metallici deposto sulla faccia del vetro che fa un vero e proprio effetto serra, molto di più del vetro. Cioè intercetta la radiazione solare in ingresso ma non la lascia uscire. Ma lei il gas ce l'ha? No, il gas non c'è ed è sostituito dalla piastra induzione. La piastra induzione funziona a elettricità però non produce calore direttamente. Non è una resistenza elettrica che ha un basso rendimento. Cioè il caldo si crea dentro il materiale ferroso. Quindi si crea nella pentola. Non è un caldo che viene trasmesso per conduzione da fuori. E quindi se ne disperde, con tanta perdita. Ma viene prodotto solo all'interno. Però ci vuole energia elettrica quindi si funziona meno. Ci vuole energia elettrica quindi sì. Alla fine poiché qui la gran parte dell'energia è prodotta dai pannelli fotovoltaici questo chiude un po' il ciclo. Sì, per questo non ha avuto il gas. Per questo non ha voluto il gas. C'era prima quando l'ha comprata la gas il gas? Sì, c'era una vecchia caldaia a gas di quelle con il bombolone, scomodissime, il GPL. E poi qui invece c'è la parte elettrica. Allora qui c'è un contatore che misura quanto produco. È un contatore che misura il quanto prelievo in sostanza. E quindi qua dentro automaticamente senza toccare nulla, quando c'è il sole io produco e quando c'è la giornata nuvolosa o di notte prelievo. Già qui io in tempo reale so che abbiamo il fotovoltaico che col sole del mezzogiorno sta facendo circa 2000 watt, 2 kilowatt. Sì. E novembre ad estate arrivo a farne quasi 4. Però intanto adesso ne stiamo facendo 2000 nel periodo peggiore dell'anno. Sì, sì. E posso vedere quanto ho consumato in casa. In casa finora ho consumato 1,8 kilowattora. Sono addirittura in questo momento in bilancio positivo in una giornata di fine novembre al nord Italia. E qui che sta succedendo nel frattempo? Possiamo intanto mettere la polenta così dopo mangiamo. Altrimenti qua se lavoriamo solo... Eh, non si mangia. No, diciamo, sti 9 mila che lei consuma, questi 9 kilowattori, vanno immediatamente assorbiti? Sì, se in quel momento... Cioè non è che lei ha un posto dove accumula questa energia? No, al momento non si può ancora. Forse una delle grandi sfide del futuro è proprio quella di arrivare a accumulare l'energia elettrica autoprodotta. Però questi 9 kilowattori, quando lei produce più, in realtà non vanno persi perché gli deconteggia l'Enel. Certo, li userà il mio vicino di casa, chi lo sa, li userà qualcuno nella rete qui vicino, invece di essere prodotti da una centrale elettrica, sono stati prodotti dal mio tetto. Se mettiamo insieme i pannelli che fanno l'acqua calda, quelli che fanno l'energia... Io sono a bilancio zero. Bilancio zero? Anzi, addirittura se faccio le scelte giuste in casa e non sono troppo... non largheggio troppo con l'uso degli apparecchi, li uso con un certo criterio, cioè tipo la lavastoviglia che vedete, non è una casa medievale, cioè qui c'è la lavastoviglia, c'è la lavatrice, c'è tutto. Però uno, come sapete, la lavastoviglia si può accendere o a pieno carico oppure per un piattino. Se uno fa delle scelte un po' opportune, io arrivo addirittura a produrre di più di quanto consumo. E questo libro è nato qui. È nato qui. È nato con questa idea. È nato con questa idea su questi computer che funzionano a energia solare e raccontando questa esperienza, che è un'esperienza assolutamente... Cioè perché lei dice che ognuno può fare la sua parte. Sì, non solo, ma divertendosi e guadagnandoci. Senza aspettare. Senza aspettare grandi aiuti che vengano da una politica internazionale, che pure ci devono essere. Abbiamo visto cosa vuol dire agevolare con leggi opportune questi processi. Però oggi in Italia li possiamo già comunque fare.